Per Marco un motore Per Marco un motore Per Marco un motore Ecco, guardate. Questa è l'auto che appare ogni sabato sera e scorazza per la città. È la Bulldog Turbo 2. Basta così, grazie. Ne ho sentito parlare e a quanto sembra è molto potente. So che ha vinto il rally delle quattro savane. Non sono serviti nemmeno i posti di blocco. Nessuno è mai riuscito ad avvicinare quella dannata macchina. Quindi non avete la più pallida idea di chi sia? Mi spiace ammetterlo ma è la verità. Abbiamo tentato di tutto ma non sappiamo più che cosa fare. L'unica prova che abbiamo dell'esistenza di quella macchina è questo filmato. Non riesco proprio a capire la smania che hanno i ragazzi moderni di sfidare continuamente la vita. Ai miei tempi mi ricordo che... Ai miei tempi si andava ancora in giro con le biciclette. Vi assicuro che la vita era migliore. Possibile che non ci sia alcun modo di identificare chi guida quel bolide. Non ha nessun segno di riconoscimento. E niente targa. L'unica cosa di cui disponiamo è questa foto. Non credo che possa esservi molto utile. Starò attento e se dovessi vedere in giro qualcuno sospetto vi avviserò immediatamente. Sì, mi faresti un favore. Ora devo andare e grazie per l'aperitivo, Antonio. Ho una riunione straordinaria con il grande capo per cercare di risolvere questa assurda faccenda. Ma oggi è sabato? Sì, è sabato. Sabato 15 settembre, papà. Perdonami, Romina. Non importa. Ma cos'è oggi? Vedi? Questo è un biglietto di invito per il cinema all'aperto. E papà aveva promesso di portarmici stasera. Ma guarda, proprio lei, un tutore della legge che non mantiene le promesse. Eh, beh, sì, ecco. Mi è venuta un'idea. Che ne diresti di andarci tu al posto mio? Ti va? Dice sul serio. È magnifico. Ti ringrazio, Marco. Mi togli un grosso peso e poi sono sicuro che Romina preferisce andarci con te. Cosa? Vuole davvero potenziarla? Già, l'ho appena comprata, ma non è poi così scattante come dice la casa costruttrice. Non so se sarà possibile. Su, da bravi ragazzi, non deludetemi. Sono pronto a pagarvi è molto. So che posso fidarmi del vostro lavoro. Pensate di riuscire a consegnarmela entro un paio di giorni? No, signore, non credo. Per fare un buon lavoro ci vorrà almeno una settimana. Caspita, così tanto. Speravo di poterla avere prima. La capisco, ma ci vuole tempo. Una city. Ho sempre sognato di averne una. Non fareste uno sforzo per un vecchio cliente? Cercheremo di fare il possibile, signore. Ok, lo faremo. Però devo avvertirla che è la prima volta che lavoriamo su un modello come questo. E tra il trovare i pezzi e il lavoro effettivo, il minimo che ci serve è una settimana. D'accordo ragazzi, aspetterò, ma mi raccomando. Fate un buon lavoro e vi assicuro che non ve ne pentirete. Ci vediamo. Stia tranquillo. È musica per le mie orecchie. Eh, ciao. Eh? Non pensavo fosse così alta. Probabilmente sarà poco stabile. Dovremmo fare dei calcoli per stabilire il baricentro in modo da assicurare una certa tenuta in curva tenendo conto del coefficiente di penetrazione. Già. Per quanto ne so, il coefficiente di questa macchina è dello 0,4, che è lo standard normale tra modelli come questo. Ehi, Marco. Eh? È vero, l'appuntamento con Romina. Caspita, macchinetta! Non avrei mai pensato che per così piccola fosse tanto potente. E questo non è ancora tutto. Se vuoi ti faccio vedere qualcun'altra delle sue prestazioni. Marco, capisco che stai guidando un'auto meravigliosa, ma vorrei farti presente che mi stai portando al cinema e vorrei da te un minimo di considerazione. Ah, sì, hai ragione. Scusami, Romina. D'accordo, perdonato. Allora dimmi, come ti sembra? Ah, in quel senso. Sei davvero molto carino. L'hai capito, finalmente. Sai, stasera è un evento speciale per me. È la prima volta che esco con un ragazzo. Certo, se mi avesse accompagnato papà non mi sarei vestita così. Allora, ti piace davvero? Ma sì, certamente. Avanti, raccontami tutto quello che sai di questa macchina. Ti interessa davvero? Bene, ascolta. Ha un motore R con quattro cilindri OHC. Ha un alesaggio di 66x99 e 1.231cc. Con un sistema di iniezione e raggiunge la velocità di 150 km all'ora e impiega 17 secondi da 0 a 400 metri. Che te ne pare? Certo, tutto chiaro. Accidenti, che ripresa. Quelle sì che sono macchine. Che noia mortale che è questo film. Che meraviglia. Spero proprio di costruirne una simile un giorno. Ehi, Marcello, andiamocene. Marco non mi sembra affatto interessato a Romina, perciò puoi stare tranquillo. Questo film è uno strazzo. La prossima volta che mi portate al cinema, assicuratevi che ci siano i cartoni animati. Smettetela adesso. A me interessa solo tenere d'occhio quei due, è chiaro? Peccato, la scena della corsa è già finita. Cos'è questa? Perfetto, speriamo che capisca. Io ti amo. Io ti amo. Che cosa ti succede? Ti è venuto sonno? Che cosa ti succede? Quei due si stanno baciando, ecco cosa c'è. Ma è normale, nei film c'è sempre un risvolto romantico. No, la mia Romina. Se sei stanca ce ne andiamo. Non sono stanca, non ho sonno e non voglio andare a casa. Adesso stai zitto e buono, godiamoci il film in silenzio. D'accordo, scusami tanto. Guarda, la Formula 1. Che cosa c'è? Guarda. Oh, mamma. Santo c'era, ma quello è un lupo. Accidenti, non vorrei dirlo, ma credo che sia... Quella è l'auto di cui parlava papà. Dai, seguiamolo. Dai. Ah, se ne vanno. Avanti, muoviti, ti aspetti. E fermati, maledetto pirata. È un inseguimento da regola. Avanti, ragazzi, all'arrebaggio. Qui a Autotretto, seguendo la Bulldog in questione, chiedo un posto di blocco. Non so se riuscirò a stargli dietro. Si dirige la statale verso sud-est, signore. Bene. Me la pagherai caldo. Ma che stiavolo è questo? Perché non mi dà strada? Marco, che cosa ci fai qui? Stai oltrepassando i limiti. Oh, stiamo tallonando quell'auto. Non dovresti esporti così, è pericoloso. Sì, Marco mi ha portato al cinema. Oh, no. Ragazza, non è il momento di fare conversazione. Faresti meglio a sbrigarti se non vuoi perdere di vista la Bulldog che prendere una nota di demerito dal tuo comandante. Ma allora è vero, eravate al cinema. Manuel, è il signor Orlando? Chiamalo per rapido. Adesso noi lo seguiamo. Tu cerca di metterti in contatto con lui, hai capito? Credo che sia dalle parti di Chinatown. Perfetto. Avvertilo subito che la Bulldog si sta dirigendo proprio verso di lui. Questa volta non deve sfuggirci. Noi andiamo. Ciao, ciao, carina. Questa volta non gli renderemo le cose tanto facili. Che ne dite, siamo arrivati per primi. Se riuscirai a catturare quel pazzo può anche darci che Romina cambierà idea sul tuo conto. Che ne dici? Esattamente ciò che pensavo. Sì, ragazzi, arriva, lo sento il rumore. Bene, ci penso io. Vieni, Bulldog Turbo 2. Dovrai passare sul mio corpo. Povero pazzo. Oh no! Oh no! Che scherzo è male, l'incredito! Marcello! Tutto bene? Sì, sì, sono ancora intero. Sono tutti pazzi. Accidenti, è un posto di blocco. Eccolo che arriva. Tutti pronti, ragazzi? Cerchiamo di fermarlo. Non mi prenderete tanto facilmente. Non sono ancora finito. Santo cielo, che fa? Maledizione! Il vicolo è troppo stretto, signore! Non ci passiamo! Otto! Che succede? Adesso sono due. Bravo, Marco. Siamo nelle tue mani. Devo dire che non guidi niente male, ragazzo. Ma le nostre macchine sono troppo diverse. Oh no! Non riesco a stargli dietro. Il turbo della Bulldog è mille volte più compresso, ha molta più potenza. Per questa volta ce l'hai fatta, Bulldog, ma non cantare vittoria. Aspetta che sistemi quest'auto. Quel pazzo ci ha quasi distrutto la macchina. Già, è vero. Ehi, Marcello, pensi che Marco potrà giustare la portiera? Sì, se non ci sarai mano in giro per lui è uno scherzetto da ragazzi. Ma oggi è domenica, chissà se Marco avrà voglia di lavorare lo stesso. Fa che mi capi che tiro quella Bulldog e vedrai come la riduco. Oh, guardatela giù. Ehi, ma sei impazzito. Se urli così mi rompi di impanì. Ma quella è la Bulldog. Dobbiamo seguirla. Accidenti, giuro che questa volta non mi sfuggerà. Andiamo. Andiamo. Eccola laggiù, è in trappola. Guarda quello, chissà se è lui il proprietario. Ma certo, ne sono sicuro. Cosa ci fate qui? Sei arrivato in ritardo, ecco il nostro uomo. Mi fa il pieno? Certo, signore. Allora, ci sbreghiamo? Abbiamo fretta, toglietevi di mezzo. Un attimo di pazienza. Scusi, dovrebbe controllare anche l'olio, per favore. Certo. Allora, vediamo un po'. Ehi, amico, sto cominciando a seccarmi, ho detto che ho fretta. Ragazzi, ho un piano. Mentre io cercherò di distrarre quell'uomo, voi andate nel garage e date un'occhiata alla macchina. Ok. Con la prepotenza non si ottiene nulla. Stia calmo e aspetta il suo turno. Non ho nessuna intenzione di stare calmo. Adesso tocca a me e basta. E scusate, c'è qualcosa che non va. No, tutto a posto. Peccato, mi era sembrato che voi due steste litigare. Ora basta, togliti di mezzo, moscerino. Ma come è rascibile, d'accordo? Cosa? Avanti, ragazzi, via libera, andiamoci da fare, cerchiamo qualcosa. Sì, d'accordo, ma non ho ancora capito che cosa dobbiamo cercare. Qual vidente? Eccola qua! Che cosa hai trovato? Ho trovato 500 lire. Finissima! Ehi, ma allora non hai capito niente? Ci stai forse prendendo in giro? Niente affatto, ragazzi. Vi ho solo chiesto di aspettare il vostro turno, tutto qui. Ti abbiamo detto che abbiamo fretta e a noi non piace aspettare. Quindi muoviti, facci il pieno, controlla l'olio e gonfia le gomme, capito? No, signore, aspetti, ma dove va? Bene, se non sbaglio adesso tocca a noi, vero? Accidenti! Non siamo riusciti a trovare proprio nulla. Forse potrebbe anche non essere lui il nostro uomo. In effetti, qui intorno ci sono un sacco di bulldog come questi. Però non ci vedo chiaro. A proposito, Romina... Marcello, togli subito quel braccio. Non essere schizzinosa. Accidenti! Aspetta, Marco! E adesso che si fa? La polizia! La polizia! Sta rivolta la polizia! Presto, scappateci la polizia! Presto, scappiamo! Grazie, Romina. Hai avuto un'idea proprio geniale. Già. Tutto bene. Ma quella è la sirena del garage. Come avete fatto ad entrare? E ora sai tutta la storia. Mi dispiace molto di aver sospettato di te, Raff. Ormai non ha più importanza. Per fortuna è tutto chiaro adesso. Devi proprio scusarci. Di un po', come mai tieni aperto il garage anche di domenica? È noioso. Beh, purtroppo capita spesso che degli automobilisti sprovveduti rimangano senza benzina. E così ho deciso di rimanere aperto. Loro ormai sanno che qui ci sono io per ogni evenienza, capite? Hai avuto una buona idea? Complimenti! Ah, per quanto riguarda voi, ragazzi, mi dispiace veramente molto per quella portiera rotta. Oh, grazie. Ma non è nulla. Me l'aggiusterà Marco? Se vuoi posso pensarci io. Ah, davvero? Sei gentile. Non preoccuparti, Raff. Io credo che chi ama davvero la propria auto dovrebbe imparare ad aggiustarsela da solo. Non è vero, Marcello? Che cosa? Ma perché ci tratti sempre male? Comunque, adesso dobbiamo proprio andare. Beh, ciao. Aspettate, ma che fredda! Che cosa? Il signor Orlando sarà trasferito? Ma perché? Purtroppo è vero se non riuscirà a risolvere il caso del bulldog. che al colmando gli hanno fatto una bella lavata di testa. Già, e ho saputo che alcune auto della polizia sono state distrutte. Proprio così. E guardate qua. Tieni. Cos'è? Eh? State attenti. Sabato prossimo si terrà un concerto rock al parco e vi assicuro che io non mancherò firmato bulldog. Santo cielo, ma questa è una minaccia. Sembra tanto una sfida, non è vero? Già, è vero. No, aspettate un attimo, ragazzi. Ma se il signor Orlando verrà trasferito in un'altra città, questo significa che anche Romina dovrà andarsene, giusto? Eh già, credo proprio di sì, Marcello. Oh no! Io non voglio andarmi. Oh! Non voglio più cambiare città. È da quando sono piccola che continuo a cambiare scuola, cambiare case, cambiare amici. Adesso basta, non ne posso più di questa vita. Dovete aiutarmi! Romina! 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 Ho deciso, monterò il turbo che abbiamo ideato noi sull'auto di quel signore e voglio proprio vedere se quel delinquente ci scapperà di nuovo. Sono d'accordo, non dobbiamo arrendersi. Sì, sono d'accordo anch'io, ma anche se non ho capito un bel niente. Santo cielo, è possibile che siate così ignoranti? Col nostro motore turbo montato su un'auto normale avremo un successo sicuro. Ma non lo si che ho capito. Avanti, forza, Boldo. Io sono pronto. Qui, terzo distretto, tutto normale. Eccolo, è arrivato! Scomandante, qui a Auto 3. A noi due, Boldo. E' una lotta inutile. Ma come fa a non rendersi conto della differenza? State attenti adesso. Non passerai questa volta. Accidenti! Caspita, ma quello è Marco! Sono io, il padrone del sabato sera! Ma che fa? Allora, cosa ti succede, Bulldog? Hai tutta qui la potenza della tua macchina? Sinceramente non mi sembra un granché. Facciamo una corsetta? Cos'è quella sporgenza sul copano? È il turbo che ho costruito apposta per catturarti. Avanti, seguimi, Bulldog! Accidenti! Ma certo, adesso capisco. Perché il turbo possa scaricare tutta la sua potenza, c'è bisogno di un buon assetto di guida. E quel ragazzino è davvero in gamba. È inutile! Tanto non ti faccio passare! Oh! Accidenti! C'è una curva! Devo rallentare! Mi sta troppo incollato perché io posso frenare! Ho capito! Sta cercando di ritardarmi la frenata, così lui potrà curvare prima! No, non puoi farcela molto il frena! Neanche per idea! Ma adesso! Com'è bravo! Ma allora è vero, sei proprio tu! Mi dispiace, scusami Marco. Raph, perché l'hai fatto? Vedi, quando sono arrivato dalla campagna, mi trattavano tutti con distacco, freddamente, e io ho sofferto molto. Allora, ho deciso di farmi accettare per quel che so fare. Ho truccato questa macchina in modo che diventasse la più veloce di tutte e ho cominciato a scorazzare in città, a spaventare la gente. Volevo che si parlasse di me. Ma che sciocco che sei! Nelle grandi città è normale che ognuno si faccia i fatti suoi, ma non è per indifferenza, è un modo di vita e ci si deve adattare per forza di cose. Non sei l'unico che ci sente solo vivendo in città. Non pensare di essere stato abbandonato. Ci siamo noi con te adesso. Marco, grazie. Stanno arrivando, ora faresti meglio a svignartela. Cosa gli dirai? Ciao, Romina! Marco, dov'è il bulldog? Che fine ha fatto? Stia tranquillo, comandante, non avremo più problemi, glielo assicuro. Cosa? Stia tranquillo, comandante, non avremo più problemi, glielo assicuro. Stia tranquillo, comandante, non avremo più problemi, glielo assicuro. Stia tranquillo, comandante, non avremo più problemi, glielo assicuro. Stia tranquillo, comandante, non avremo più problemi, glielo assicuro. criclo, comandante, non avremo più problemi, glielo assicuro. Tu, è il pubblico diverso? Sarai con la base dell'Inghe. E sulla pista sprecherà davanti a tutti. Come vediamo!